Una due giorni dedicata al mondo della scuola e ai suoi addetti ai lavori per fare il punto sull'evoluzione del sistema scolastico e sulle sue prospettive con sullo sfondo del dibattito l'esperienza positiva delle sezioni primavera, ipotizzate come alternativa all'anticipo della scuola dell'infanzia e divenute via via realtà educative significative proprio nel nostro territorio, a partire dall'approvazione del decreto 65 del 2017 per la promozione del sistema integrato da 0 a 6 anni, così come spiega il dirigente tecnico nazionale Giancarlo Cerini. È una legge nazionale che vorrebbe garantire a tutti i bambini in qualsiasi regione o comune d'Italia risiedono la stessa parità di diritti e di opportunità. Se andiamo a vedere la situazione attuale purtroppo abbiamo grandi differenze di presenza di nidi, di qualità della scuola dell'infanzia, di tempo scuola e quindi la speranza e l'impegno è che attraverso questa decreto legislativo che richiede di essere però attuato non solo dallo Stato ma anche dalle regioni, dagli enti locali e dalla rete delle nostre scuole statali, ci sia la possibilità di qualificare questo tipo di servizi. Quindi l'iniziativa di oggi voleva un po' riprendere gli aspetti di qualità possibile che dovrebbero avere questi ambienti, sia se parliamo di nidi, che parliamo di scuola dell'infanzia o anche di queste esperienze che possono rappresentare un primo punto importante per offrire nuove opportunità ai bambini che sono le sezioni primavera. Un patrimonio, quello delle sezioni primavera, che nasce in città nel 2012 grazie all'intuizione della dirigente del primo istituto comprensivo, Rosalba Marchiciana, che oggi conta ben quattro sezioni differenti. È un servizio nel quale ho creduto fortemente e grazie alla professionalità degli educatori è davvero cresciuto tanto ad accreditarsi a Gela e anche nella provincia, se non adesso in Sicilia, come unico servizio pubblico. Ma in realtà non è un orgoglio personale. Il senso di questo incontro e la testimonianza del rispettore Cerini va verso una direzione, quello di allargare, quindi contagiare un po' gli operatori della scuola, perché è un servizio estremamente importante. Nel meridione lo è forse ancora di più perché colma un vuoto che è quello di servizi pubblici che non esistono. Ma al di là, diciamo, di questa mancanza, oggi abbiamo voluto in qualche modo evidenziare che si tratta di servizi che sono funzionali a garantire i diritti dell'infanzia. A confrontarsi sul tema dirigenti scolastici, insegnanti e addetti ai lavori che stamattina hanno fatto il punto sull'autonomia delle istituzioni scolastiche a 20 anni dal decreto presidenziale che l'attuò nel 1999. In questi 20 anni quante cose sono state fatte e quante invece, quante aspettative non sono state deluse? In realtà poco è cambiato e che comunque stamattina vogliamo riflettere su questo e su quello che poteva essere il DPR 275 sull'autonomia se magari fosse stato attenzionato e se le risorse magari disponibili fossero state migliori. Nel pomeriggio di oggi invece nel plesso di Via Fuentes l'analisi si sposterà sulla proposta di reinserimento dell'educazione civica nelle scuole, una riforma che meritava più attenzione secondo il dirigente Cerini. La realizzazione di questa novità che decorre dal settembre del 2020, quindi questo è un anno di preparazione, non è facile perché la legge prevede che si faccia in 33 ore all'anno di educazione civica ma non aggiunge orario all'orario scolastico, cioè va ritagliato dall'orario esistente e non ci sono nemmeno risorse aggiuntive. Quindi è un po' come a volte succede in Italia in cui ci piacerebbe che si affrontassero temi nuovi però poi facciamo fatica a passare alla fase realizzativa.